Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto, che ci vuoi far? Siamo nati per amar, e perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Chi è? La donna. Ya è primavera, è la settimana più lunga.